Ciao, sono Davide Ballerini, ho 20 anni, sono un under terzo anno, siamo qui a San Luis Scuola Nazionale per cercare di fare esperienza, vediamo, fa caldo ma non importa. Con chi corri? Corro con l'Uni Euro Wille Trevigiani, che adesso sono appena tornato dal ritiro insieme a mio compagno di squadra Petili Simone, abbiamo fatto il ritiro alle Canarie, siamo partiti il 6 gennaio, mentre gli altri compagni restano là fino al 26. Sei pronto? Sì, la gamba c'è, vediamo domani in gara. L'ultima volta che hai indossato la maglia azzurra? L'ultima volta che hai indossato la maglia azzurra è stato da Junior secondo anno al Giro della L'ultima volta che hai indossato la maglia azzurra è sempre una grande emozione perché l'Italia è una nazione molto importante e adesso vediamo, siamo in uno scalino superiore, troviamo dei professionisti veri e vediamo a livello com'è. Agro, prendi nota, prendi nota. Io prendo nome, ecco Davide, poi praticamente darci delle indicazioni più precise su questo corridore, questa speranza che ha portato il CT della Nazionale in Argentina. Da domani, ciao.